Allora, qui siamo in una situazione di crisi, siamo in Valseriana, tantissime aziende chiudono purtroppo, abbiamo una delegazione di una fabbrica che ha chiuso definitivamente il 31 luglio, non è dalla Valseriana, è di Grassobio, ma siamo qui a pochi chilometri, c'è qua anche il sindaco Ermene Gildo Epis ad accompagnarli ed è una fabbrica che non ha avuto questa chiusura un gran risalto sui giornali, siamo noi gli unici che possiamo dare voce a loro, è la FAC, avete presente i cancelli automatici? Ecco, la FAC è una fabbrica di Bologna, 1850 dipendenti, 220 milioni di euro di fatturato, chiude a una fabbrica anche a Grassobio da 50 persone, scusate la luce, come ho detto ha chiuso il 31 luglio per trasferire, non perché va male perché c'è crisi, perché la FAC ha fatto nel 2014, ha triplicato gli utili passando da 13 milioni a quasi 39 milioni di utili, però cosa fa? Chiude a Grassobio per apportare la produzione in Bulgaria. Ecco, siete già incazzati su questo, il punto è chi fa queste operazioni? Le multinazionali, soprattutto più spietate, americane, dove i dipendenti sono dei codici a barre, sono dei numeri, ma voi sapete di chi è la proprietà della FAC di Bologna? Allora, la FAC di Bologna qualcuno l'ha indovinato, ma adesso diciamolo bene, la FAC di Bologna è stata ereditata, trasmesse in eredità nel 2012 dall'allora proprietario al Vescovo, alla Curia di Bologna. Quindi, noi abbiamo, noi abbiamo, abbiamo delle, una entità, la Curia, il Vescovo di Bologna e tutta la sua congrega, che magari insieme a Monsignor Galantino, nostro amico, viene a dare dei razzisti a noi, dei piazzisti a quattro soldi a Salvini, perché noi ci opponiamo a dare la casa ai clandestini e questi danno un calcio in culo a 50 famiglie bergamasche per metterle sulla strada. Questa è una cosa che grida vendetta! Le case ai clandestini e alle famiglie dei nostri lavoratori un calcio in culo! Da parte di chi? Della Curia di Bologna! Allora, che non si permetta più nessuno di dare lezioni di moralismo a noi, perché noi siamo quelli che ci danniamo l'anima per la nostra gente e qui invece c'è gente che si danna l'anima per i clandestini che però fruttano un sacco di soldi. Allora, il ragionamento è ma l'etica sociale, l'etica del lavoro, l'etica del territorio. Qui, guardate, ho una dichiarazione, intanto che aspettiamo Matteo, quando del Vescovo, quando è stata ceduta, ha avuto questa grandissima donazione una fabbrica da 1850 persone che dà 39 milioni di euro di utile che vengono trasmessi mensilmente alla Curia per poi, per cosa servono? Per dare la casa ai clandestini? Allora, la Diocesi, nell'esprimere la propria gratitudine spiegò allora in una nota che avrebbe utilizzato quei beni così provvidenzialmente pervenuti alla prassi plurisecolare della sollecitudine verso le necessità della comunità umana secondo il comandamento evangelico della carità ma ai nostri 50 un calcio in culo. Quindi, allora, visto che sentiamo direttamente da loro come sono stati trattati Allora, premetto subito una cosa ci sarà qualche giornalista buonista qualche opinionista radical chic che dirà che dirà vergognoso attacco della Lega alla Chiesa questo non è un attacco alla Chiesa questa è legittima difesa verso 50 famiglie di lavoratori bergamaschi che nessuno avete letto qualcosa voi di sta storia? Avete sentito un sindacalista dire qualcosa? Avete sentito un monsignore o galantino dire qualcosa di sta storia qua? Prego Noi pensavamo che con un datore di lavoro come la Chiesa non avremmo dovuto temere per il nostro futuro soprattutto per i numerosi comunicati che l'arcivescovo Caffarra ha fatto dove dichiarava di non voler licenziare nessuno siamo stati presi a calci nel sedere ci hanno lasciato a casa con un preavviso di due mesi per delocalizzare tutto in Bulgaria e non perché l'azienda andasse male ma solo per visto l'incremento di svariati milioni di profitto ricavato ma semplicemente per guadagnare di più quindi ci troviamo su una strada 50 dipendenti con le rispettive famiglie ragazze e madri senza più un lavoro dicendoci che avrebbero provveduto a ricollocarci ma sono passati diversi mesi e ci rendiamo conto di essere stati presi in giro e gettati nella disperazione proprio dalla Chiesa abbiamo chiesto diversi spiegazioni all'arcivescovo della Curia di Bologna il quale ha ribadito che la Chiesa è estranea alle vicende a questa vicenda alle decisioni che prende il CDA nonostante sia la proprietaria ed è la stessa proprietà che predica la dignità ed è il diritto al lavoro è il diritto al lavoro